Ecco la preparazione è pronta, la nostra simpatica bella amica Non commenti? No, ascolta questa bellissima canzone Che è un po' l'ino dei giovani d'oggi, vero? Esatto Cosa non potresti mai non portare quando sei in vacanza? My umbrella Noi ce l'avevamo l'umbrella No, infatti L'hai fatta tutta? Sì Salutiamo l'autogrill E San Cino Salut Salut Grazie a tutti.